ehi la ciurma io sono mazzates e ben ritrovati qui su expeditions room stiamo facendo questa missioncina dei pippottini che stanno facendo il contrabbando per rifornire mitridate in pieno avanziamolo vorrei tornare un attimo sui miei patti qua dove c'è questa ah cavolo mi sono sbagliato no ma era ah no forse era meglio da non lo so è una brutta situazione in entrambi i casi di prova allora intanto farei così farei così farei così farei così farei così vai ho dea nera steva in linea retta su quella magari gli fa un po di danni allora manderei quest'uomo qua ecco rotto danni va bene a farei così dovrebbe ridare l'azione e poi gli spacco anche il coso bravo tineros vai indietro se vuole non com'era che ti faccia robe strane bestia riesce ad arrivare da qualche parte no a tutti attacchi a distanza 1 purtroppo bestia eeeh facciamolo muovere di qua tutti gli altri non possono muovere né fare cose per cui ah quello sopra non è scudato quello sotto si per cui andiamo su questo andato e farei un aaaaaa niente non li vede ah no però ho questo adesso lo vediamo per bene molto bravo guarda 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 credici vai bestia non è un'imprecazione bestia è proprio il suo nome ciò si muove nell'oscurità è due tipo che si muovono nell'oscurità mi sa però sono in questa zona di nuovo ti caglio ah no è sul fumo così che non vediamo niente ahah aspettiamo qua e poi dopo vai incontro ok quello è nel fumo però per cui questa cosa non mi piace per niente ah iulia vede qualcuno mhm purtroppo no però l'arciera là è pure in cover questo invece no ottimo anche qua non vede la gente allora se io provo ad attaccarlo quanto persino ah no lo vede no però lo provare a togli ah no glielo toglie tutto lo scudo però così ah ma questi passano ah questo passa ma l'altro no ma guarda chi c'è qua nascosto poi di 8 questo è Deia Neira da qua no mancato scusate un attimo no scusate un attimo erano rimasti ok ma lui non l'ha messo benissimo potremmo usare Sinaroth piuttosto per aiutare Bestia almeno partialmente ma lui è lo scudo per cui non dovremmo essere troppo preoccupati di passare lì accanto a Julia però ancora un attacco ma non vede nessuno vivendo sì qua eh potrebbe vedere lui ma sarebbe in range suo no là la manderei in pasto ai leoni proprio per cui meglio di no fare un interrupto che male non fa ci sono due invisibili tra l'altro che si fa ah no uno invisibile era quello fa mi sento ahia mi sto prendendo tutto in faccia io pure il burning mi sa che non me la sono studiata bene a muovere intorno al guarda se non altro c'è Sinaroth sta dai dintorni eh facciamo così così Sinaroth può passare e fare cura dovrei togliere anche il fuoco spero ok questo per caso colpire no non può colpire nessuno però non è indietro ora si ora si sempre un 3-4 potrei togliere tutto lo scudo invece no no allora facciamo quello che Pierce poi pondea nera va bene questo è flanked per cui bestie dovrebbe poter usare ah no abbiamo già sprecato l'azione ci è sprecata l'abbiamo già adoperata diciamo lo spazzerò oltre sì perché da qua lei non vede nessuno no no doveva passare sopra ah ho capito passare sopra vabbè allora qua ottimo e la rimetto nel fumo così tutto il riempimento dovrebbe essere abbastanza safe lui è rimasto con azioni non spenta ci stino lo scopo ancora fare della roba non è vero ahia mi hanno è afflancato non è afflancato non è afflancato no bueno no bueno sono nella cacca ahia Sineroth no il calter appunto non è afflancato vuol dire che non lo muoviamo più allora questo dovrebbe venire giù come burro ah ma tra l'altro abbiamo il doppio vero? nooo ancora? porca pupazza fare due su questo ma vaffanbrodo ne è entrato solo uno a un certo percento ma si prende l'attacco poi dell'altro mi sa a questo che gli da bleeding anche pure a te stesso ma stai parlando di te stesso ma ancora si nello schede le possibilità ma no niente ma non è vero? state perdendo fortissimo ah è andato via il fumo ovviamente appena prima di loro è andato via il fumo ancora questi calterops oh vedi buco questi calterops questo non lo vede e quello gli è inutile farei uno sono due molto bene allora questo ma quello era flancato un tempo è così? cosa? molto bene questo è spaventato ma non me ne può fregare di meno vai un'altra 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 si non lo riesce a dargli il corpo di grazia per un caso perché il next target vai qua ah no è troppo vicino va va dai andata bravi tutti bravi tutti soprattutto C'è una fortuna qui. Ora capisco perché queste persone trattano loro. Per un senatore romano rifornire un re straniero in una guerra attiva contro di noi è imperdonabile. È una tendenza che ho osservato molte volte durante la mia vita. C'è più che uno ha, c'è più che uno vuole. Molti soldati di Pontic saranno freddi nei prossimi giorni. Ah, ci sono arrabbiati perché sono avido. Ma scusate un attimo, ho bisogno di pagare il manpower. Siamo appena a prendere un'altra... Un'altra provincia. Quello mi ha chiesto 10.000 denari. Ehm... Allora... Qui mi ha finito tutto? Cioè non c'era un'altra zona esplorabile. Ti dico, no? No... No, perché la finisce. Ehm... Ah, ma qua è rimasto il tipo là sopra? Tu sei, no? Ehm... Bella tutta questa acqua che scende. Che va... Ah, vabbè, vabbè del pranzo? Va bene. Poi se ci mancasse il cibo, abbiamo saccheggiato l'intere zone di... I beduini, la... Sì, che so io... Ehm... Sì. Ho preso tutto, mi sa. Possiamo andarcene. Unspent skill point... Ehm... Ah, un po' per tutti. Per cui vabbè, ce ne occuperemo poi più tardi. Ho anche dell'equifaggiamento, ma non mi sembra che ci sia niente particolarmente interessante. Ma ci sono degli schemi. Che andiamo a studiare. Che possono sempre servire. Sì, allora, noi ce ne andiamo. Ah, vedi qua c'è scritto? Puoi riempire il manpower nelle baracche. Nelle baracche... Sì, le baracche. Questo è nella caserma, insomma. non ero a caserma, però... ...non termine più sensato. Che si fa quindi? Dobbiamo andare a parlare con lo pull-luss? Kuckuckuckuckuckskulludluss? No, non questo. Voglio... No, dobbiamo solo con quest'Asia Minor. Ehm... Beh nulla, quindi aspettiamo che la regione arrivi là. Aspetta dobbiamoci incontro. Questa c'è la battaglia della vita della morte allora survival chance ah cavolo è bassina la survival chance qua un po' di tutti questo è più facile però questo è più facile che vinciamo poi perché ha tutte e tre sbloccati sceglierò il primo quello che ci da meno rischio i comandanti meno rischio i centurioni vai la difesa è entrata dovremmo vincere senza problemi il fatto che non vi distruggiremo aaaaaaah è fallito l'attacco però non so qua di questi sono tutti i soldi che spariscono fortissimo guest è un'entrata ottima la difesa guest guarda come entra tutto giù l'attacco lui vabbè mi ha dato solo l'utranger io voglio tirare giù questo risvoltisce parecchio ma non è che mi da meno difesa scende il morale non è buono no facciamo trovo pila questo avremmo la difesa più scala sopra infatti guardate aiaaah ancora a rischio i centurioni ok meno 22 un 32 dai quattro ne ti diamo giù ma com'è l'utranger ma non mi ricordo niente l'utranger potresti tirar giù la gente tutti e due falliti proprio è uscito il cavallo che l'unico che ne ha ma è chi si è pregato il loot perché poi vanno vanno rinforzare gli altri per cui ce ne hanno 3511 se vanno a sommarsi gli altri diventa una roba fuori di testa dai com'è possibile sempre su cavolo di cavallo ok vabbè dopo i soldi che spariscono buono nulla non abbiamo concludo niente gli abbiamo scolgito qualcuno che si deve essere in gamba la battaglia è wonta mettere il morale perché mi sa che ah non c'è di morale mi hanno detto una cosa super mega potentissima per il morale togliamo questo c'è chi c'è facciamo qui adesso qui vieni no mi hanno detto che c'è una sorta di trucchetto bravo che ha imparato un po' quell'altro ragazzo 13 denari 3 schiavi 6 razioni nessun loot box però abbiamo 7 abbiamo guardato 7 di esperienza buono abbiamo perso 276 capperina allora no il discorso era che se noi troviamo un eeeh va bene più che altro quanti sono adesso qua non si può sapere 5 medicine niente fatti fichissimo ma come sono già 23 minuti ma no dai io volevo ancora far cosina mi spiace se facciamo se facciamo ancora qualcosa quanto sono adesso 4695 sono pazzi sono pazzi isterici no 10 di esperienza non li diamo via assolutamente mai eeeh questo possiamo farlo invece ah però aspetta abbiamo la tannery il lumberman allora facciamo là però noi vogliamo possiamo entrare in eeeh 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 proviamoci proviamoci no passo così va bene ah ok qualcosa che vi non l'avevo mai fatta ma in realtà non è così cattiva dai muoviamoci però perché sennò sto video diventa il video più lungo della storia dell'umanità su youtube tipo 25 ore di expeditions non ho fatto una maratona non ho fatto una maratona così lunga effettivamente ma neanche un 4 forse 2 forse 3 ore è stato il massimo di live che ho fatto è già impegnativo oh comunque parlare su quel tempo uno esaurisce qualsiasi potenza la propria voce qualsiasi cosa di corde vocale allora mi hanno detto in pratica che c'è un tipo di eeeh tizio che ha una chiacchierina che eeeh dà del eeeh ah ma non abbiamo più nessuno qua che dà morale alle truppe tutte le volte che stai in bagno per cui allora farei che eeeh va bene eeeh rinfestiamo con Barrex chi è che era bravo Barrex bestia ma non voglio lasciare bestia non c'era uno bravo no e allora mettiamo Luin buccio Fabio eeeh qua avrei bisogno forse del refresh dei cosi ah però non ho ancora il bagno questo ci serve allora perché c'è appunto questo trucchetto qua che richiede l'uso del bagno eeeh tactical items abbiamo bisogno di tactical items i've made a list of materials needed whenever you have a moment to go over it va bene va bene eeeh no vabbè stessero bettacchi che c'è guardiamo qui dopo peso curino dei nero va bene eeeh e mettiamo uno in speculator eeeh niente concludiamo qua le ultime cose le farò off camera ci vediamo al prossimo episodio vi invito come al solito lasciare un mi piace, un commento e iscrivetevi 4 punti ogni 32 ore che ha il bagno per cui lo mettiamo qua perchéeeh così almeno ci farà salire costantemente il morale delle truppe il shop ci eeeh darà degli stratagemmi migliori per le battaglie eeeh ci permetterà di fare degli stratagemmi a uso singolo eeeh colpuriamolo poi vedremo che cosa ci dice in pratica e l'emporio ci darà eeeh migliori prezzi e nuovi oggetti in vendita sono curioso di vedere ah no è più grande guarda come è più grande è più grande di prima è tipo come quello di eeeh eeeh non ci sono più cose ah forse semplicemente hanno uno stock massimo più alto perché prima ha 2.000 e al massimo adesso ha 4.000 perchè io gli posso vendere un'infinità di provviste per un'infinità di soldi 400 provviste per 4.000 denari? ma tutta la vita ma tutta la vita eeeh schiavi ne abbiamo un sacco ne abbiamo spesi ma ne abbiamo di più di quelle che avevamo prima eeeh medicine siamo anche con un sacco di medicine perchè non è un problema abbiamo un sacco di soldi eeeh vediamo se possiamo fare un upgrade cioè ripristinare la gente salve eeeh replenish quanti ce ne servono? ah dissimi ce ne servono va bene ottimo siamo di nuovo a full ciao a tutti Grazie a tutti.